Sono Laura, lavoro in Hotwire e sto seguendo un corso di web analytics con Enrico. Ho trovato questo corso molto interessante, ho scoperto un sacco di strumenti nuovi che non avevo mai utilizzato e trovo che sia veramente utile riuscire a capire il modo in cui sfruttare tutti i dati che abbiamo a disposizione per le nostre campagne. Per la mia esperienza i docenti sono molto preparati, le classi sono molto ben assemblate a livello di persone che partecipano e si imparano un sacco di cose nuove quindi sicuramente del tempo ben investito.